e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono roid e oggi vedremo patch e hotfix del 10 settembre quelle appena uscite allora innanzitutto i nuovi contenuti è disponibile il dlc nuovo il quarto e ultimo dlc compreso nel season pass ma potrebbero arrivarne altri in futuro lo vedremo a breve alla packs quindi potrete da ora se avete il season pass iniziare a scaricarlo poi giocarlo oppure potrete comprarlo nel caso non abbiate il season pass inoltre è stato aumentato il limite del livello quindi il livello massimo che potrete avere nel vostro cacciatore a livello 65 quindi un aumento di 5 livelli dal 60 al 65 per quelli di voi che si lamenteranno che dovrete rifarmarvi la build e siete stufi di questi cambiamenti sappiate che era già stato detto in passato e adesso è stato confermato questo almeno per il momento quindi vuol dire per i prossimi mesi forse anni forse bu sarà l'ultimo aumento quindi 65 per un lungo periodo sarà il livello massimo non ci saranno altri aumenti quindi questa è l'ultima volta che dovrete rifarmarvi la build e poi non avrete più niente da fare veniamo invece gli altri cambiamenti innanzitutto sono stati aggiunti altri due mmp o mp o chiamateli come volete quindi due aumenti di caricatore massimo per pistole shotgun smg fucile d'assalto e granate e in più due espansioni per l'inventario della macchina raccogli bottino quella che vi ho mostrato qualche tempo fa che vi recupera le leggendarie se non sbaglio questo aveva 13 posti in totale adesso dovrebbe arrivare a 15 inoltre è stato risolto un bug per cui c'era il messaggio ripristina munizioni che persisteva anche se era la beate ripristinata anche se le altre comprate nelle sessioni multigiocatore e ora le icone della classe del giocatore avranno le immagini del profilo per i giocatori di steam e di epic anche nei giochi in multiplattaforma per quanto riguarda la modalità caos ora i giocatori hanno la possibilità di riscattarsi lotta per la vita quando la distruzione è attiva e hanno ucciso nemico in corpo a corpo i modificatori caos non cambieranno più all'ingresso di giocatori tramite il matchmaking quindi se siete dentro una partita con i vostri modificatori qualcun altro entra e non cambierà tutto a caso e in più è stato aggiunto l'adattamento del danno caos agli scudi nove riflettenti quindi agli scudi che riflettevano il danno e gli scudi che creavano delle nove intorno a voi adesso è stato aumentato il danno per portarlo in pari con la mayhem 10 o la mayhem 9 8 5 quella che usate voi e che preferite speravo mettessero anche la possibilità di scegliere i propri modificatori ma questa patch non porta dei grandi cambiamenti a livello di gameplay vediamo ora dei cambiamenti personaggi allora la prima cosa collegamento profondo di amara meglio conoscendo come test the pines è stata nerfata di brutto adesso ai nemici trasmette solo il danno da armi e il danno corpo a corpo fine non trasmette il danno d'abilità non trasmette il danno nel tempo quindi tutte quelle build come anche una che usavo che avrei voluto mostrarvi ma adesso è inutile che si basava sul passare il danno da fuoco ai nemici o passare il danno del guardian rank quello che vi permette di aumentare il danno del melee ai nemici non funzionano più ma non è stato nerfato altro di questa vita quindi comunque rimane forte diciamo meno di prima meno sbagliata di prima l'abilità passiva conta di morti del domatore non impedisce più a racca l'attacco di ottenere il numero di cariche in seguito ai colpi critici quindi un altro bug risolto per flak l'abilità dominio del domatore continuerà a danneggiare le bestie per tutta la sua durata abilità dominio è quell'abilità di flak che dovrebbe essere l'ultima del ramo blu che vi permette colpendo con un melee un nemico di trasformarlo in un alleato e sulle bestie dura il doppio se ricordo bene il bug era che anche sulle bestie faceva il danno sempre per lo stesso tempo anche se avevano doppia durata e quindi per il resto della durata poi non prendevano più danno la mod di classe dello stack bot non ripristinerà più l'aumento dell'accumulo quando un nemico subisce danni d'esplosione o elementali nel tempo questo è un pochino di nerf infatti vuol dire che se avete una build di flak che sfrutta appunto questi i danni critici dello stack bot per aumentare i danni ma sfrutta anche i tick dei danni nel tempo per aumentare le stack dello stack bot beh dovrete basarvi sui sui critici adesso non potete più usare anche gli elementi la mod di classe free hand bot del domatore ora aumenterà anche il danno animale semplice così e la passività passiva audacia da vendere dell'artigliera applica danni bonus a entrambe le armi di orso di ferro e non solo quella a sinistra in più c'è un singolo hotfix che risolve un problema con lo shotgun legendario la de garcia che ogni tanto il molti giocatore quando sparavate dritto all'improvviso sparava dritto in verticale invece che dove stavate mirando per la pace tutto io adesso finisco di scaricarmi il nuovo dlc e me lo vado a divorare e noi ci vediamo tra qualche tempo però è tutto per un po ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti